ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo video della giornata oggi voglio fare due chiacchiere perché sto leggendo un po di commenti quelli che mi state lasciando sotto i video e vedo che ci sono due frange bene o male una di persone felici per come si sta muovendo la juventus sul mercato e io mi rivedo all'interno di questa categoria e uno invece diverso di persone che sono un po titubanti e dubbiose rispetto a quello che sta facendo la società sul mercato e lo so che sembra paradossale ma mi rivedo anche in questa categoria non è una volontà di non prendo una decisione ma come in tutte le cose secondo me ci sono dei pro e dei contro e oggi voglio parlare di un po di contro che sono quelli che andremo ad elencare nella parte centrale di questo contenuto una delle critiche maggiori alla società juventus è la seguente la juventus con questo mercato inizio mercato di parametri zero sta creando un vero e proprio cimitero degli elefanti sta andando a cercare giocatori trentenni o ultra trentenni e quindi quasi in prepensionamento ora è difficile contestare questa cosa perché oggettivamente di maria e perisic sono ultra trentenni uno è un classe 89 come irovan perisic uno addirittura più vecchio come di maria e poi c'è poco ma che è un classe 93 è vero non è ancora un trentenne ma è un giocatore che ha diversi problemi fisici e che in questa stagione poi ha giocato davvero poche partite oltre ad aver avuto un rendimento non di altissimo livello apro e chiudo parentesi così come tutto il manchester united che non si è nemmeno qualificato alla champions però pogba sicuramente non è stato un fenomeno in questa annata e quindi queste sono cose da prendere in seria considerazione dall'altra parte io ragiono sui valori individuali dei singoli giocatori e cioè pogba penso che sia il centrocampista migliore eventualmente nella rosa della juventus tra tutti quelli che abbiamo o appunto pogba se vado a prendere i nostri cinque prendo pogba siccome pogba rimane anche questo pogba anche non il miglior pogba della carriera il miglior centrocampista e poi dico come è calato negli anni potrebbe anche ritrovare un po di gioia con il cambio di maglia quell'entusiasmo e ritrovare anche degli antichi pensieri a ricaricare un po le batterie riuscire a uscire magari anche da un momento buio che lo sta accompagnando in carriera perché non dimentichiamoci che comunque il miglior pogba lo abbiamo visto a torino non a manchester a torino e lo stiamo continuando a vedere in nazionale quindi non è che un giocatore forte in nazionale scarso in altra parte senza considerare che anche in nazionale tante volte si è detto sì però rabbio in nazionale rende la juve no è vero però pogba in nazionale gioca rabbio in nazionale gioca appunto con pogba e cantè al suo fianco con giocatori forti e questo potrebbe magari eventualmente aiutare rabbio allora dovesse rimanere alla juventus a migliorare ulteriormente sebbene comunque vadano ad occupare la stessa posizione in campo sono due centrocampisti che partono bene dal centro sinistra anche se rabbio l'abbiamo visto diverse volte anche in questa stagione partire dal centro destra con allegri quando non veniva schierato come finto esterno di centrocampo però capisco la preoccupazione di chi mi dice ragazzi pogba non è quello di una volta ragazzi pogba è un giocatore che va sulla trentina ragazzi pogba è un giocatore che va strapagato ragazzi pogba è un giocatore molto a fine agli infortuni e noi non siamo sicuramente la squadra migliore per salvare questo tipo di calciatori anzi nelle ultime stagioni siamo veramente forse raccapriccianti sotto questo punto di vista infatti la juventus si sta muovendo anche lato medici per capire che cosa va cambiato che cosa no e sembra che ci sarà una vera e propria rivoluzione sotto il punto di vista della medicina in casa juventus io qua ovviamente fatico a dare un'interpretazione perché non ho una laurea in medicina non sono medico e non conosco nemmeno i diretti interessati quindi spero che la juve possa muoversi nel migliore dei modi dall'altra parte ci sono di maria e perisic allora io intanto dico una cosa non credo dubito dubito davvero che la juventus vada a creare una squadra e in tutti nella squadra ci saranno tutti e tre questi parametri zero cioè davvero io sarei stupito di vedere pogba di maria e perisic alla juve l'anno prossimo eppure sarei contento mi piacerebbe acquistarli tutti e tre lo dico senza problemi lo dico nella tranquillità più totale ma credo che non ci saranno tutti e tre dall'altra parte vi dico attenzione ragazzi perché è vero che di maria e perisic sono oltre trentenni che andrebbero a guagnare stipendi importanti è anche vero che la juventus ha imparato dai suoi errori del passato e quindi non sta andando a proporre dei contratti lunghissimi 4 5 anni come magari poteva avvenire in passato magari anche per riconoscenza magari anche perché non si era stati bravi a interrompere il legame nel momento giusto con alcuni calciatori che avevano fatto la storia ma si sta cercando di fare contratti più brevi cioè di maria emblematico che sia un anno di contratto ed eventualmente un altro di opzione due o due diretti per sfruttare il decreto crescita si sa che di maria è un giocatore anziano un giocatore sul viale del tramonto eppure si va a investire comunque un giocatore del genere perché ha vinto tanto in carriera credo che sia stato l'unico calciatore in grado di far vincere a messi una finale con l'argentina un trofeo internazionale con la sua nazionale perché di maria ha fatto il gol a brasilia dell'1-0 questa estate nella finale della coppa america di maria ha vinto la champions con il real madrid di ancelotti la decima quanti anni è che il real madrid non vinceva la champions di maria con ancelotti la vinta tra l'altro con un ruolo ibrido che mi ha fatto veramente innamorare tra l'altro del fideo ricordo benissimo quella stagione di maria mi faceva impazzire anzi si diceva che la grande fortuna di ronaldo di quella stagione era proprio appunto aver giocato con di maria quindi un giocatore che ha giocato con ronaldo commessi diciamo che ed è risultato decisivo sia con ronaldo commessi in più squadre a livello internazionale quindi sicuramente stiamo parlando di un grandissimo giocatore vecchio indubbiamente ma anche chi mi dice e allora che senso ha mettere di maria al posto di dibala sapete bene quanto bene voglio di bala ma non c'è nemmeno da mettere a confronto le due carriere cioè di maria ha dimostrato tutto e dappertutto forse magari fallendo proprio a manchester dove oggi gioca pugba ma per il resto ragazzi di maria ha fatto una carriera incredibile e dall'altra parte c'è perisic c'è perisic che è lo stiamo vedendo è un altro che pugba ha vinto il mondiale ha vinto l'europa league di maria ha vinto la champions ha vinto la coppa america perisic ha vinto la champions col bayern monaco ha vinto gli scudetti con l'inter anche lui a livello internazionale ha fatto una finale mondiale addirittura mi pare un gol in finale mondiale lui e manzukic possono aver fatto gol tutti e due una roba del genere proprio contro pugba quindi ci sarebbe eventualmente questo contrasto incredibile tra i due vado a memoria adesso non magari ho detto un'informazione sbagliata però dovrebbe essere andata così però giocatori che hanno giocato ad alti livelli giocatori che hanno attraversato palcoscenici importanti e io vi dico in questa stagione si è vista un po di mancanza di quella roba lì dell'abitudine a gestire la pressione di determinati momenti e poi aggiungo se la juventus ha deciso di andare avanti con massimiliano allegri qua si può essere d'accordo o non d'accordo personalmente questa sono i miei due centesimi sarebbe addirittura stupido cercare di inseguire per forza un modello di gioventù se hai massimiliano allegri e massimiliano allegri per tutto l'anno ti ha ripetuto che ha una rosa con giocatori che sono giovani nel senso che non hanno quell'esperienza allora forse significa che non è proprio soddisfatto di quello che sta allenando di quello che gli è arrivato in mano ma avrebbe preferito una rosa più esperta in determinati reparti o in determinati giocatori o nello spogliatoio stesso e se si decide di andare avanti con massimiliano allegri e massimiliano allegri per tutto l'anno ti ha detto una cosa che va in netta contrapposizione rispetto alla rosa che si trova in mano probabilmente è anche stupido cercare di inseguire per forza le cose una cosa una nostra volontà poi qua si apre una discussione perché ogni tifoso potrebbe dire sì ma io preferirei cambiare allenatore andarsi un allenatore in grado di valorizzare profili giovani è una società che non vada acquistare questo tipo di profili ma questo è tutto un altro discorso ci mancherebbe altro è sacrosanto è diritto di tutti pensarla io sapete come la penso io addirittura non sono convinto che questo sia il modo giusto di gestire la juve in questo momento ma la juve sta facendo un'inversione di tendenza negli ultimi anni ha sempre cambiato quest'anno conferma negli ultimi anni ha sempre innovato calciatori quest'anno li svincola vedi di bala quelli che sono seconde linee stipendio al super ribasso vedremo bernardè che cosa farà dovrebbero incontrarsi nel weekend per decidere insieme oppure no dall'altra parte vi dico se mi fanno una squadra con 11 12 13 14 15 giocatori forti importanti che hanno vinto con un mix tra giovani e vecchi anche qua io mi sto trovando dei commenti di gente che mi dice vi siete inventati il termine giusto mix per giustificare questo mercato ma io non devo giustificare niente nessuno cioè non è una decisione mia se la juve decide di prendere questa strada io la commento e se confermi massimiliano allegri questa è la strada giusta se cambi massimiliano allegri questa è la strada sbagliata sembra lineare il ragionamento dato che non decido io se andrò avanti con allegri oppure no ma hanno già deciso come vi abbiamo come vi ha riportato fabiana della valle qui sul mio canale allora credo che sia sacro santo andare a prendere giocatori che secondo massimiliano allegri sono idonei al progetto ma meno male che si sta seguendo questa pista ma non perché lo dice allegri che il mago no semplicemente perché da troppi anni facciamo dei mercati indipendenti dagli allenatori e allora dato che questo è l'ultimo grande anno che hanno a disposizione la juventus intesa come dirigenza la juventus intesa come allenatore perché se sbagliano anche un secondo anno con questa direzione societaria penso che non ci sarà santo che tenga eh sono veramente dell'idea che che poi ci sarà la rivolta abbiamo già assistito ai fischi e dannelli l'altra sera e questi sono un indice eh di malcontento nel popolo juventino abituato a vincere e allora dato che vogliamo l'uovo la gallina e il culo caldo è difficile noi vogliamo una squadra di giovani che vinca subito e con l'allenatore che para noi quest'anno abbiamo scelto una strada di abbassare l'età media e la stiamo comunque ancora abbassando perché non dimenticatevi che esce chiellini uscirà probabilmente alexandro dibala stesso che è un trentenne viene rimpazzato da pogba che è un trentenne è la stessa età va bene un anno dopo però capite bene che è poi ovvio se entrano sia peresic di maria l'età media si alza ma non dimentichiamoci mai che all'interno della rosa della juve l'elite laovic moise ken se verrà confermato si parla anche di raspadore dal suo posto comunque poco cambia sono dei duemila iniziano essere dei giocatori e poi ovviamente io rimango dell'idea che se mi fai un mercato solo così un po mi girano un po mi girano però devi ripuntare su quelli che sono i tuoi come fagioli come miretti secondo me non ce ne sarà spazio per tutti e due questa è la mia supposizione vediamo se invece la juve poi cambia idea se mi fai una squadra solo di trentenni ora sono il primo a dirti ragazzi ma dove cacchio stiamo andando non esiste una squadra di solo trentenni se mi fai una squadra di solo ventenni o ventitreenni o ventiquattrenni vi dico ma dove stiamo andando cioè a me tocca leggere della gente che mi dice che locatelli è vecchio di chiesa è vecchio entrano nel momento top della carriera e hanno i prossimi 3 4 anni in cui saranno al momento top della carriera ma non sono vecchi c'è un giocatore di 24 anni non è da buttare via giocatore di 25 anni non è da buttare via entrano nel momento top della carriera fine semplice è così e poi io voglio dei giocatori che come seconde linee possano crescere dentro questi campioni questi giocatori che hanno scritto già la loro storia e probabilmente sì sono alla ricerca dell'ultimo contratto pesante della carriera prima di mollare a me importa che arrivino con la professionalità che hanno sempre dimostrato fino ad oggi e su di maria penso che ci sia poco da dire giocatore straordinario dentro e fuori dal campo pogba bisogna vedere come torna questa è la mia grande paura questo è il mio motivo per cui avrei preferito un linko vissavic lui non ha mai vinto pogba ha già vinto quasi tutto gli manca sulla champions cosa che non credo che vincera torino però questa è la mia modesta opinione pericic davvero ha vinto tutto quasi tutto e anche su di lui non ho particolari problemi pensando che arrivi a svernare no penso che pericic abbia un livello di competitività altissimo addirittura in questo momento il trascinatore forse se vogliamo dell'inter e gli fai uno sgarbo gli fai un danno a me dispiace che ci sia ancora qualcuno che in questo momento storico della juventus e questo momento di difficoltà assoluta della juventus mi ragiona sull'europa è giusto è bellissimo è un sognatore un grande però oggi bisogna anche rendersi conto che il nostro target sia passato ragazzi è tre anni che usciamo agli ottavi di champions è due anni che arriviamo quarti il primo passo da fare è ricominciare a vincere in italia e sono assolutamente dell'idea che i giocatori come pogba di maria e pericic nel campionato italiano siano alla grandissima in grado di fare la differenza alla grandissima per questo vi dico sono soddisfatto di quelli che sono i primi nomi e addirittura arriverebbero a parametro zero giocatori a cui dovrò solo pagare lo stipendio che magari mi andranno a sostituire morata che probabilmente non verrà riscattato dibala che non è stato riscattato bernardeschi che magari se ne andrà anche lui a parametro zero quando escano dei giocatori a zero che non sono tuoi devi cercare di colmarli anche quei buchi qualcuno mi dirà su lei ma io sono il primo volere su lei in prima squadra per vedere se è in grado di diventare un giocatore importante per la juve ma non pretendo che al suo primo anno da professionista nella juventus mi faccia la differenza mi farebbe piacere sarei forse anche un po stupito perché ormai si è persa no questa differenza di ormai c'è il fenomeno che arriva su dalle giovanoni di pronto deve giocare e il bidone quello che non può entrare nella juventus deve andarsene via perché fa schifo ci può essere anche semplicemente la via di mezzo e cioè un giocatore che può farti 20 partite 25 partite in un anno senza bisogno di rinnovare bernardeschi che è un po lo stesso ragionamento che si poteva far per descegli adesso vedremo se rinnoverà oppure no forse non hanno il giocatore pronto forse è stata richiesta dall'allenatore non lo so non mi ho idea se rinnovano descegli dopo che l'anno scorso avevamo andato in prestito uno più uno casa mia fa due e mi viene a dire che questa è stata una richiesta esplicita dell'allenatore quando gli hanno proposto gli hanno detto guarda se abbiamo questo budget e questi giocatori vogliamo prendere a parametro zero allora magari avanza fuori non avanza fuori la riserva del terzino ora cosa facciamo facciamo andare via zero desceglio vuoi un giocatore la primavera e magari lì avrà detto no prendo desceglio ma io queste non le cose non le posso sapere come non le potete sapere voi le sanno dentro le sanno loro e queste sono finalmente le decisioni che devono prendere con coraggio io non sono d'accordo con quello che sta facendo la juve ma tante scelte di quest'anno della juve sembra raffassonate su sapete io avrei addirittura rinnovato paolo di vala non avrei mai fatto andare via parametro zero però faccio un atto di fede nei confronti della juve è il mio ultimo grande atto di fede perché se per due anni siamo andati male il terzo non può andare male non può ma la mia opinione la metto da parte perché ci sono i fatti e i fatti non li posso decidere io i fatti li posso commentare dirvi che non sono d'accordo ma finisce lì non posso fare altro c'è inutile che io venga qui a fare ogni giorno un video distruttivo a dirvi secondo me stanno sbagliando secondo me non se ne intendono secondo me ho ragione io secondo me hanno torto loro non ha senso non ha senso ve lo dico sapete e mesi che andiamo avanti con questo discorso e mesi che mi metto qui a dirvi boh secondo me stanno sbagliando secondo me non dovrebbero far così però poi cerco anche di spiegarmi il perché stanno facendo così cerco di darmi delle risposte e oltre a fare un atto di fede non posso fare nient'altro posso raccontarvi quelle che sono le mosse della juventus posso dirvi probabilmente vanno in questa direzione per questo io avrei fatto colà e poi godermi lo spettacolo perché c'è qualcuno che è già qua che mi dice allora io la juve l'anno prossimo non la guarderò ma ragazzi ma la juve non si guarda solo perché vince perché vince se no c'è ragione quelli che ti dicono perché ti fai la juve solo perché vince il juventus si ama nel bene e nel male cioè non è che c'è da girarci intorno la juventus è una fede come qualsiasi fede calcistica chi è il tifoso che guarda la squadra solo perché vince probabilmente uno che non è un vero tifoso è tifoso della sensazione di vincere è quello che vuole andare sul carro nel momento decisivo io darò sempre speranza a chi lavora la juventus darò sempre appoggio a chi lavora la juventus nel momento in cui decide di ripartire con quelle cose lì semplicemente perché non ci posso fare niente vorrei dei cambi certo che vorrei dei cambi però finisce lì è la mia opinione contro quello che accade io non lo so se invece ci si diverte tutti i giorni a richiedere che tutti i giorni vengano fatti dei video di dire questo deve andare via questo deve andare via questo deve andare via ve lo dico tranquillamente sarebbe anche più facile perché tutti i giorni non avrei nemmeno bisogno di informarmi non avrei nemmeno bisogno di documentarmi di capire di sforzarmi di ragionare aprirei semplicemente i social aprirei le applicazioni prima pagina del tal giornale han detto questo no andrò a fare il contrario per me non va bene perché perché non va bene sarebbe tutto più facile e invece no cerco di dirvi le cose che secondo me sono giuste e le cose che secondo me sono sbagliate e mi piace anche sentirmi dire secondo me hai detto una puttanata perché per me è il contrario è bellissima la discussione è bellissima la discussione ovvio che se uno parte in qui ti dice sei un deficiente perché tu pensi così invece penso lì finisce tutto allora ragazzi vedo già un po troppo alone negativo intorno alla juventus che hanno fatto degli errori certo e infatti lo sanno e penso che inizia a friggere anche il sedere dove appoggiano le loro poltrone secondo me iniziano essere roventi iniziano avere il culetto che scotta perché ne sono consapevoli anche loro veniamo da due anni tremendi e un terzo non sarebbe accettato perché già il secondo è stato mal digerito non è un problema non è un problema non è un problema